ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video è con piacere che possiamo dire che è un set bellissimo l'italia torna sul tetto del mondo della palla nuoto dal 2011 mancava questa affermazione in corea a yangju scusate se la pronuncia non è giusta l'italia dopo aver superato l'ungheria in semifinale supera la spagna con un netto 10 a 5 e ragazzi c'è poco da dire c'è poco da dire un italia che adesso è diventata una nazionale con più titoli mondiali è arrivato a quattro se questa abbiamo staccato l'ungheria non saremmo i primi se uniamo i titoli della serbia e della croazia insieme a quella giugoslavia ma il conteggio ufficiale dice serbia che la giugoslavia ne ha tre la serbia due quindi noi veramente abbiamo fatto un mondiale strepitoso increscendo increscendo se andate a vedere i risultati tranne col brasile dove è stato un massacro ma le altre partite con la germania col giappone con la grecia sono state tutte 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 sofferte no ma anche con la stessa ungheria in semifinale qua invece oggi abbiamo dato una dimostrazione di superiorità pazzesca e la spagna è stata tramortita secondo quarto e terzo quarto è stato dominio ho visto delle giocate delle giocate veramente strepitose da parte dell'italia volé di prima cioè grandi grandi giocate veramente in italia che si è anche divertita è superiore su tutti i punti di vista veramente cioè oggi è stata perfetta ripeto il secondo il terzo quarto credo che sia stata una fotografia di come deve essere giocata una partita di pallanuoto i giocatori si sono trovati a meraviglia e difensivamente si hanno stati quasi perfetti perché qualche qualche imprecisione c'è stata ma abbiamo tenuto benissimo la spagna non è riuscita a fare praticamente nulla 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 infatti lo scorlo vedi insomma 10 a 5 deve aver fatto il doppio dei gol degli avversari vuol dire che hai veramente giocato alla grande migliore della partita ma sono migliore del torneo dell'italia credo che sono ai cardi che è un giocatore secondo me di livello superiore si nota si nota proprio che abbiamo abbiamo dei giocatori veramente forti e insomma siamo contenti perché insomma dal 75 94 2011 e 2019 tornare sul tetto del mondo con la pallanuoto che è sempre stato il nostro fiore all'occhiello uno dei nostri fiori all'occhiello sicuramente fa molto molto piacere poi vabbè io è uno di sport che uno di quegli sport che a me piace tantissimo insieme alla pallavolo e al basket oltre il calcio mi piace molto la pallanuoto seguo sempre guardo tutti i tornei e ripeto aver vinto questa medaglia veramente pesa e spero che dia soprattutto convinzione per affrontare al meglio l'anno prossimo le olimpiadi perché abbiamo la qualità per portare a casa medaglie pesanti anche nella prossima olimpiade perché la qualità c'è questa squadra tanta 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 qualità e niente dunque intanto altra medaglia tra l'altro per per il j sport con sandro campagna che fa parte del j sport che vince la medaglia d'oro come allenatore e insomma tutto tutto bello veramente una gran bella giornata una gran bella partita è stata una gran bella italia e dunque come ho detto all'inizio è stato un set bellissimo italia farà la quarta volta campione del mondo di pallanuoto maschile ragazzi chiudo qua il video e non mi resta che dare appuntamento con i prossimi video oggi vi preannuncio che sicuramente ne andrà in onda un altro parlando sull'under 23 e mi auguro di farne un altro perché poi capirete perché ciao a tutti ragazzi al prossimo video